Hai conosciuto Baudelaire? Hai conosciuto Giovanni Pasquini? Hai conosciuto Baudelaire? Hai conosciuto Giovanni Pasquini? Hai studiato a scuola Giovanni Pasquini? Di cosa parleresti fuori di più? Con chi non avreste fuori di più? Cosa avrebbe scritto Lombardo? Senza il male di vivere? Senza il male di vivere? Senza il male di vivere? Cosa resterebbe di te? Cosa resterebbe di te? Hai conosciuto Baudelaire? Hai conosciuto Giovanni Pasquini? Cosa avrebbe scritto Baudelaire? Cosa avrebbe scritto Lombardo? Senza il male di vivere? Senza il maledetto male di vivere? Cosa avrebbe scritto Baudelaire? Senza il male di vivere? Cosa avrebbe scritto Baudelaire? Cosa avrebbe scritto Baudelaire? Non potresti ripetere, non potresti ripetere Freva il fenicio, morto da due settimane Dimenticò le urle dei gabbiani, le onde dell'alto mare Il profitto e la perdita Una corrente sottomarina, gli scolpò le ossa in bisbigni Come affiorava e affondava, attraversò gli stati dell'età matura E della giovinezza, entrandola in cortice Cosa avrebbe scritto Romare? Cosa avrebbe scritto Baudelaire? Cosa resterebbe di te? Cosa resterebbe? Con chi lotteresti? Con chi parleresti? Di cosa parleresti? Senza il male di vivere Senza il maledetto male di vivere Ha acceso il fuoco, rimbò e se ne è andato in Africa Grazie 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 Grazie